ciao ragazzi ed eccoci qua una nuova avventura del su minecraft come aveva detto ho trovato finalmente una grotta come dio comanda ah vaffa no l'endermag sta morindo è morto sulla lava e che cretino ma qua facciamo così 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 un po' di ferro qua c'è un dato poco a farlo se avevo un creeper adesso giuro che salto come non so che ok e questo è il ferro al dato e quanto ferro mi giusto qua c'è tanto tanto ferro tanto ferro però porca paletta qua c'è un po' di ferro cos'è sta schifetta qua ora uranium che c'è? ah che pistaglio andiamo qua qui c'è un po' di ferro 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 e quindi intanto portiamo via sta acqua e va a far guolo ok piegiamo in acqua piegiamo in acqua piegiamo in acqua che non fa mai male a carbone che non fa mai male a carbone gambello ok ci serve un mucchio di carbone per cominciare tiriamo subito qua che non mi vengono qualche gripparino acciucciarmi i piedi come mai faccio ancora ok mangiamo una bella mela qui c'è un'altra cotta cazzo niente grotticino c'è altro eh lo trovo complimenti a me via 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 merda del grippar bravo vaffanculo non so qualche grippar il cazzo quaggiato carbone lo prendiamo un po' Quante mila lari la trovo? Quindi qua Allora, questo va benissimo Intanto chiudiamo questa lava Quante mila? Qualcuno sta male? Qualcuno fa male la pancina? E basta che non ti venga a rompere le balle qua Fa tutti i versi che vuoi Vai lontano da me, grazie Zombico del cavolo Non fare stransuare il zombico Se no, tutto la sua madre Alto quarzo Quanta nocce Che ventaccio è fuori Sento troppo camminare qua E questo non mi piace per niente Andiamo a portare qua No, qua non c'è niente giusto Mangiamo l'ultima mela Dammi una mela No, qua non c'è niente giusto Non c'è niente giusto Non c'è niente giusto No, qua non c'è niente giusto Non c'è niente giusto Non c'è niente giusto No, qua non c'è niente giusto Più avanti ho visto un creeper Se non mi sbaglio Signor creeper No No, c'è un altro stranso qua Si, signor, dai viva Dai vabbè proviamoci tanto questa roba ok proviamoci questa robetta qua ok qua siamo già stati che era la lava vediamo questo ferro 18 coppia ora 57 azioni quasi un stacco da 63 azioni sta a crezare benissimo abbiamo fatto un stacco di ferro questo va non mi ha fatto niente grazie per il grande plombo non posso averla allora che punto io lo chieda non tutto questo è quasi un testo allora altro ferro questo è un caso che ferro non ho mai trovato così tanto ferro questo gara mi interessa questo qua è la caverna del ferro Oh tanto ferro tanto ferro sempre Cosa c'è una tagavarna? Eeeh, eeeh Ciao Ciao, signora, come va Vabbè, questo soggetto sono pieno, vado a, allora, intanto dormiamo, sono pieno e mi tocca andare a sbottarmi, qua facciamo questo qua, facciamo 26 intanto, qua facciamo questi qua, sopra facciamo questo, per me serve un pochetto da carbone, qua facciamo questi 19, trabbiamo, vabbè ragazzi, vediamo quanto stiamo, 15 minuti, vabbè, ci sentiamo la prossima volta, andremo di nuovo in caverna, alla prossima, ciao ragazzi e ricordatevi di lasciare un mi piace e pollici su, ciao